Che bello! Finalmente vincerò! No, Jason! Vincerò io! Ah, sì! E vai! Sì, ho vinto! Ottimo lavoro, Jason! Ehi, Jason! Che c'è? Vuoi giocare a calcio con noi? Che bello! Sarà fantastico! Facciamolo, forza! Ma vi avverto che siamo molto bravi a giocare a calcio! È tempo di calcio, sì! Squadra blu! Squadra rossa! È tempo di allenamento! Primo round! Sì, gol! Oh, no! Sì, tocca a me! E vai! Sì! Oh, no! È ora di fare gol! Sei pronto, Jason? Non segnerete mai! E vai! Ho fatto centro! Sei stata brava! Forza, segna qui dentro! Ti faccio vedere come si fa! Oh, no! Gol! Oh, gol! Secondo round! O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O! Oh, no! Ah, 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 ah! Oh, no! Oh, no! Terzo round! Iniziamo! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto! Otto! Tocca a me! Tre! Iniziamo! Solo uno! Ora tocca a me! Oh, sono bravissima! Tre! Andiamo! Pronti a vincere! Tre, due, uno! Jason, Jason, Jason! Jason! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Hmm... Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! ti aiuto io Jason grazie mille ora mi sento molto meglio prego Jason dobbiamo sempre aiutarci Jason vai si ah si oh no abbiamo perso oh si abbiamo vinto 3 a 2 è tempo di medaglie la tua meritata medaglia la tua meritata medaglia Alex wow si e ora è il momento delle medaglie alle ragazze ecco a te grazie Alex anche noi abbiamo una medaglia è così bella siamo tutti vincitori è ora dell'allenamento di calcio prepariamo il campo cominciamo cominciamo e l'ultimo lo metto qui abbiamo finito il campo è pronto dove sono Alex e Jason? chiamiamo subito Alex e Jason una telefonata e chi è? non lo so pronto? Alex? Jason? siete in ritardo e sarete puniti Jason abbiamo un allenamento oh no il primo che arriva vince via allora dovrò essere il primo ecco il monopattino di Jason wow andiamo e il mio monopattino cavolo ti prenderò Alex ok mettiamo la buccia mettiamola sì io vincerò sarò il re del calcio wow wow oh no una banana wow 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 che male che mi sono fatto wow piano funzionato wow 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 ciao ciao Alex che cosa? Jason vieni qui wow 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 sai Jason sarà più veloce wow te la farò vedere e come lo sai che vincerò io Jason no vincerò io no vincerò vincerò tutto vincerò oh sarò velocissimo velocissimo oh sì sarò il primo il primo oh di qui forza oh sono il primo sono il primo sì sarò il primo sono io il primo no non è vero sono arrivato io siete entrambi in ritardo primo allenamento tirare la palla cominciamo yeah Alex puoi iniziare tu no non voglio iniziare io faccia iniziare tu no devi iniziare tu ok 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 va bene tutto bene ah mi è sfuggito oh di nuovo ah nemmeno un colpo ah 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 ti faccio vedere come si fa questi sono gol ditemi un po' come ha fatto molto male Alex Jason ottimo lavoro uno contro uno sai che ti batterò Jason sono io che ti batterò perché non hai possibilità cominciamo oh no secondo round adesso vincerò ah dammi il cinque e ultimo giro ah ha vinto Jason Alex Jason sono molto orgogliosa di voi datemi il cinque questo sì che è allenarsi ciao è stato un buon allenamento vero? è stato proprio un buon allenamento ma ti batterò alla prossima no non lo farai è tempo di giocare a calcio uno due tre quattro sono pronta ma dove sono Alex e Jason? devo chiamarli aspetta ho una telefonata e chi è scusa? penso che sia la nostra allenatrice di calcio pronto? Jason Alex venite subito agli allenamenti di calcio subito oh sì sì va bene Jason forza andiamo subito ci sta aspettando sempre gli stessi oh oh no che cavolo andiamo forza Alex da quella parte forza corriamo veloce ed eccoci pronti per allenarci Alex voglio quella palla no è la mia palla preferita dammi quella palla forza la voglio che cosa? non voglio questa ridammela tieniti questa ok? dammela subito Jason Alex basta litigare mi dispiace coach molto bene stavamo combattendo iniziate subito l'allenamento certo certo qual è il primo esercizio? primo allenamento tieni la palla sul piede ok ok è facile molto bene si va uno due tre quattro ah solo quattro bene partiamo non sono bravo in questo ah io ne ho quattro e tu uno e va bene muoviamoci secondo esercizio tirate verso la porta avanti ragazzi sono qui nessuno riuscirà a segnare segnerò con entrambe Sara no non lo farai si ce la farò eccomi no si e uno è fatto no ora farò il secondo gol ragazzi no si 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 vai questo non va bene wow e il notturno forza segnerò i miei gol si oh sono caduto sono caduto tiro da paura oh guarda questo li ho sbagliati entrambe hai perso per due volte Alex le ha mancate entrambe Jason è molto più bravo yummy pausa fratello io ho portato gli oreo e io un po' d'acqua che bella pausa mi piacciono troppo mi piacciono troppo Alex a te piace il calcio no Alex e Jason si insegnante si chi vi ha detto di fare una pausa ci scusi coach ci dispiace lo sa tornate subito ad allenarvi arriviamo subito bene ragazzi ecco il nuovo esercizio dovete fare gol con la testa che cosa ma questo farà male va bene ok Jason e Alex state lì e cercate di fare gol dai Jason forza tutto bene pronto? certo che sì molto bene vai uno due uno via gol gol molto bravo Jason molto bene adesso tocca a te vedrai che testata sì guarda la preparazione fammi vedere Alex forza veloce veloce Alex ci voglio riprovare va bene ok ok andrà bene bene riprovati ok ok oh no non mi piace questo gioco il prossimo esercizio è il momento dell'ultimo esercizio idoneità mi piace oh no Alex qui e Jason qui dovrete impegnarvi continuate ragazzi dovete essere forti io sono stanco anche io molto va bene ragazzi prossimo esercizio sì che bello let's go mi faccio sempre male non ci credo ottimo lavoro Jason avanti più velocemente più velocemente dai vai bravo fai così Jason Alex che stai facendo? oh no mi dispiace va bene ragazzi ottimo lavoro ma siate puntuali la prossima volta ci vediamo presto finalmente a casa oh sì mangiamone ancora ciao 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 insegnante ciao a tutti ehi bambini grazie per aver guardato Jason Vlogs iscrivetevi subito al mio canale ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti